La KV Stock, terza edizione, quali sono le novità per quest'anno? Innanzitutto la preselezione, che ci sarà il 26 luglio con una giuria grazie alla quale poi verrà stilata la scaletta della seconda novità, ovvero tre giorni, 9, 10 e 11 agosto, dalle 18 fino a che sarà possibile suonare. Sempre a Piazza degli Eventi, anzi no, questa volta a Piazza degli Eventi, perché le altre edizioni sono state fatte in altro luogo. Quali saranno gli ospiti di punta della manifestazione? Allora, sarà sicuramente alla Marina, per valorizzarla, sta diventando sempre di più un simbolo di Civitavecchia, soprattutto dell'estate civitavecchiese, e ci saranno degli ospiti di tiratura nazionale, il gruppo di punta saranno i ministri, ci saranno i linea 77 e stiamo cercando anche altre sorprese. Bene, per partecipare le band cosa devono fare? C'è un sito sul quale andare per scaricare il bando e il resto? Sì, www.likevustock.tk dove ci sono tutti gli estremi per partecipare alla selezione.